adesso ragazzi tiro sto drive perfetto in pista palla bassa no vabbè ragazzi ma adesso anche anche la zolla sul coso sono completamente completamente irritato e imbruttito ma Paolo che cos'hai ma ti vedo così imbruttito oggi ma cosa ti è successo ragazzi se cosa per tirare dritto la pallina mi sono messo addirittura a mettere il t basso e oggi ho fatto anche la zolla col driver si ragazzi non si può avere il t basso col driver vi faccio vedere perché perché sono imbruttito ragazzi cosa fondamentale per tirare il driver alto e lungo come rory mcroy e avere l'angolo attacco positivo che cosa vuol dire vuol dire che il bastone quando arriva a colpire la palla non può arrivare a colpire la palla come un ferro 7 mentre è in discesa col driver non bisogna neanche colpire il terreno bisogna tirare con il bastone che sta andando verso l'alto ma se mio amico l'altro giorno metto schiaccia la palla comprimila col driver ma no col driver a parte che si può comprimere la palla col driver senza schiacciarla basta prenderla in centro ok ma è fondamentale avere l'angolo attacco positivo col driver perché i test hanno visto che da un angolo attacco negativo a 1 positivo si possono guadagnare fino a 20 metri non vuoi fare 20 metri in più col driver allora ho un esercizio fondamentale per colpire la palla in salita con il driver vediamolo allora mettiamo la nostra pallina con il t allora prima regola il t deve essere alto quindi diciamo che la pallina dovrebbe uscire metà palla fuori dalla testa del bastone questo è un'altezza ottimale del t occhio al t poi prendete le vostro slip di palline vuoto ovviamente non pieno ok lo mettete davanti alla pallina un grip in questo modo ok la cosa che dovete fare è fare backswing colpire la palla e non colpire lo slip di palline quindi le prime volte sicuramente tirerete colpirete lo slip che ancora vostro attacco è negativo però col tempo la sensazione dovesse avere proprio arrivare con il fianco avanti e la schiena leggermente inclinata il bastone che sta andando verso l'alto quindi se io mi metto qua così tu non mi dovresti prendere assolutamente no proviamo ok perché perché il bastone sta viaggiando nella sua fase ascendente non discendente una cosa importante anche che non ho detto la palla va messo sotto la scella sinistra all'interno del piede sinistro questa importanza mettete la palla in mezzo ai piedi con il driver l'angolo attacco è sicuramente negativo impossibile quindi mettiamo in campo pratica il nostro slip di palline a un grip davanti alla palla e cerchiamo di fare lo swing senza colpire lo slip di palline quindi la cosa fondamentale pallina sulla piede sinistro all'imposizione setup alla schiena leggermente inclinata verso destra e adesso non ci resta che vedere mostracelo la prova mostracelo ragazzi non si è mosso angolo attacco positivo la palla quando lo fate bene vi dovete aspettare che via molto più alta come l'angolo di lancio trova la meno spin e ci sarà molta più distanza per non essere più un golfista imbruttito per un golf perfetto grazie a tutti grazie a tutti